Grazie Presidente. La salsa di pomodoro costa 39 centesimi o per esempio in determinati posti un po' più a basso costo anche 18 centesimi. Ora però l'Italia è stata condannata perché una persona del Sudan, Abul Mohamed, è morta a seguito della raccolta dei pomodori che avveniva per 12 ore al giorno sotto il sole rovente. E quando si sa tutto questo e si sa che non c'è una vera ispezione del lavoro in un paese come l'Europa e che si paga 39 centesimi per la salsa di pomodoro, ebbene questo spiega esattamente perché abbiamo la migrazione, perché abbiamo bisogno di controllare come vengono trattate le persone, perché questo è sfruttamento di esseri umani. Io sono contenta di poter dire che sono i vostri ispettori che non hanno controllato e in questo modo se non ci fosse la migrazione e lo sfruttamento in questo modo non vi sarebbero neanche queste condizioni di lavoro. Quindi questo è un fattore che non scomparirà, l'attrattiva di lavori di questo tipo. Per un minuto e mezzo l'onorevole Vindel.